Consegnato il cantiere in via di Vincenzo per la ricostruzione di un condominio di case di edilizia residenziale pubblica che ospiterà quattro civici, case di proprietà del comune, che erano state già demolite. Fanno parte di un progetto complessivo, una parte degli alloggi andrà al Ministero della Difesa, nell'ambito di un accordo siglato con l'Agenzia del Demanio, Regione Abruzzo, Ministero della Difesa appunto, e provveditorato alle opere pubbliche. 50 sono gli appartamenti che andranno all'esercito, 7 milioni di euro l'importo della giudicazione, sarà la ditta soci e monaditta campana ad eseguire lavori. Tra comune e Ministero della Difesa ci sarà la permuta dell'area di via Filomusi-Guelfi, dove ora c'è un parcheggio e parte della caserma Rossi, circa il 60%. Nel discorso rientra appunto anche la caserma, che appena tornerà al comune, sarà parte di un ragionamento importante, spiega il sindaco. Qui solo una porzione degli alloggi rimarrà di proprietà dell'ente comunale, perché il resto fa parte dell'accordo più ampio, sottoscritto anche insieme all'Agenzia del Devanio, al Ministero della Difesa, alla Regione, che riguarda tutta la permuta dell'area di Amicis. A seguito del terremoto erano state occupate le aree che oggi ospitano il parcheggio del Tribunale. Il Ministero della Difesa aspettava da tempo che il Comune dell'Aquila restituisse quanto tolto. Lo abbiamo fatto con un accordo sottoscritto nel 2019, questo è un primo passo, l'altro passo sarà ad opera del Probeditorato, la ricostruzione dell'officina, quindi consentirà a questo di dismettere complessivamente la caserma Rossi, che verrà per il 60% al Comune e il 40% rimarrà invece al Demanio. Ma sulla destinazione, per quanto ci riguarda, quando effettivamente la Rossi verrà nella nostra proprietà, cercheremo di capire anche quali sono le esigenze della città, che naturalmente mutano nel tempo e quindi è inutile oggi fare delle previsioni. C'era anche una richiesta da parte dei Vigili del Fuoco, come si sa, di realizzare lì dentro la nuova caserma in maniera più funzionale rispetto all'attuale. Noi siamo disponibili a parlarne apertamente perché riorganizzare le funzioni della città è uno degli obiettivi del mandato.